Siamo in compagnia di un napoletano doc ed un grande tifoso del Napoli, Sal Da Vinci, che è con noi. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Sal. Ciao Serena, la giornata è come te, come il tuo nome, Serena. Come hai vissuto questi momenti magici ieri sera? È stato emozionante. Napoli, partendo dalla Napoli milionaria del grande Eduardo De Filippo, è passata per Massimo Trevisi, ricomincia da tre fino ad arrivare a Cernolta Scugnezzi. E se ti giri dall'altra parte c'è un mare azzurro meraviglioso che sta arrivando nei posti dove il mare non c'è. Questo porta alla vittoria del Napoli in tutto il mondo. Questo porta alla vittoria di una città, al riscatto se vuoi di una città, a questo fenomeno importante. Il napoletano quando vive l'azzurro lo vive in modo particolare, o forse l'azzurro in questa città ha una sfumatura particolare. Che significato ha questa vittoria del Napoli, che non è soltanto calcistica immagino? La vittoria della città è la vittoria di un popolo, è la vittoria delle sfumature, della cultura di questo popolo che non smette mai di sognare e persevere i sogni continuamente. Lo fa, ma lo fa con fierezza. E naturalmente ho visto tanti servizi in giro per il mondo, quindi i napoletani sono tanti. Certo, ma tu rispetto allo scudetto precedente, agli scudetti passati, che differenza c'è? È una donna, una femmina che è rimasta incinta per 33 anni e finalmente ha partorito il suo bambino. Poi hai scritto anche una canzone dedicata a Napoli tu. Ma più che altro l'ha scritto il grande Claudio Mattone che si chiama Napoli mia, che oggi registriamo. Naturalmente l'incontro con tutti gli scugnizi che si sono seguiti per queste repliche straordinarie, questo spettacolo che è stato un monito importante per la città e non solo perché in tutto il paese... Se la puoi cantare... Non te la posso cantare. Perché la canto oggi in studio.